Novità di campo? No, di novità di campo ho recuperato perché ero rimasto a casa per problemi fisici nella trasferta di Cagliari dobbiamo adottare anche se è difficile un recupero di Pinardi l'unica problematica che abbiamo in questo momento Non fai ancora di dubbi su chi lo sostituisce un Mazzarani o Rione nel mezzo da campo tra Mazzarani e Rigoni uno dei due giocatori L'Inter affrontarà una grande squadra ma è stato sorpreso in negativo dall'Inter che ha visto in questa prima parte della stagione? No, io penso solo a Novara, non penso all'Inter io penso che l'Inter sia una grandissima squadra siccome lo sta dimostrando anche ora penso che sia giusto che lo guardi in casa mia che dobbiamo pensare solo a quello poi l'Inter dovrà pensarsi domani sera sicuramente in campo e ripeto è una grande squadra è una squadra che ha delle qualità straordinarie e che penso, avendo visto le due partite di campionato che ha disputato che abbia ottenuto meno di quanto ha ricordato vedere in campo Perché pensa che abbia ottenuto meno di quanto? Perché le prestazioni fatte meritavano altri risultati La scelta tra Rigoni e Mazzani non è così semplice il rapporto a come vuole giocare in campo, no? Quindi deve ancora valutare se giocare un po' più tranquillini o secondo il solito vale? No, noi saremmo il solito vale sicuramente noi andremo a cambiare in vista dell'Inter abbiamo una nostra identità e la vogliamo confermare anche in questa partita ma anche io ho pensato, ho valutato, ho consapevole della forza dell'Inter l'opportunità anche di variare ma ho optato per... giocheremo nella stessa maniera che giochiamo sempre dovranno essere pronti comunque eventualmente anche ad avere un'alternativa Grazie Ha detto Sabato che bisogna avere più consapevolezza che vi trovate in Serie A La partita è quella giusta, insomma, per darsi il pizzicotto che serve No, no, gli avevano già presi i pizzicotti, non ce ne servono altri e anzi, gli avevano già presi No, io ho detto che soffriamo un po' perché la verità tra i miei giocatori che hanno 5 partiti in Serie A o essere la prima e chi ne ha 150, quasi tutta una squadra che ne ha 150 un po' di differenza da fare però ci siamo meritati in questa categoria parlo proprio di chi ha giocato meno in questa categoria chi ha acquistato dalla Serie C alla A ci siamo dimostriamo di poterci stare io sono convinto che lo possiamo fare quindi di essere noi stessi, ripeto poi sappiamo che i valori sono tutti a favore dell'Inter l'importante è che noi giochiamo al meglio delle nostre possibilità questo è l'importante e che lo giochiamo dal primo minuto perché nelle due partite che noi abbiamo fatto uno abbiamo fatto a casa un risultato positivo non dimentichiamo e a Cagliari che ha vinto a Roma abbiamo perso 2 a 1 siamo sempre stati in partita perché fino in fondo siamo stati in partita però magari un po' dimessi nella prima parte di liga cosa che non deve succedere più e l'entusiasmo che ci sarà qui domani sera dobbiamo farne una forza nostra in una maniera giusta in una maniera giusta beh ci serve perché l'Inter è forte siamo in 12 in un momento che lo saremo o tanto meglio mister che idea che si fa dell'Inter guardando la partita con il Trabzonspor e guardando la partita di Salto moduli differenti rispetto alla confusione? no io non mi permetto di dire confusione ho appena detto che ho guardato le due di campionato Palermo e Roma e ho appena detto che penso che l'Inter meritasse in tutte e due le gare e di un qualcosa di più in particolar modo a Palermo a tutto? a Palermo ha fatto un'ottima partita secondo me l'Inter nel secondo tempo ha fatto un'ottima partita secondo te che modo lo adotterà contro il Trabzonspor non ho più pali d'idea a cosa spero? non spero nulla spero che faccia bene che io non la rendo mi starebbe a dirla qui di martedì dopo l'impegno di Salto che non ha scattato insomma su anche la turista logistica come reagisci alla cosa a questi impegni di Salto? no nessun problema la società ci ha messo l'opportunità di rientrare subito con il charter quindi non c'è problema abbiamo la stessa fatica dell'Inter sulle gambe fatta sabato non c'è stata nessuna problematica è andato tutto bene si gioca dopo poche ore magari non siamo abituati a grandi ritmi ad essere abituati a queste infrastrimanali se non quelle di campionato però ci siamo le abbiamo fatte altre e affrontiamo quelle di domani belli, sereni tranquilli consapevoli ripeto che di fronte abbiamo un'ottima squadra ma che dobbiamo fare noi la nostra partita mi importa che noi ci fermiamo per quelle che sono le nostre possibilità chiaro che noi dobbiamo essere veramente al 100% per dire ci proviamo la nostra prestazione domani è molto importante vi serse ne ha parlato tanto durante l'estate perché non si era visto un campo sintetico in Serie A poi parvostolmente il Novara è stato preceduto dal Cesena voi però avete costruito la vostra promozione in gran parte in casa pensa che il sintetico che giocare in casa qui contro l'Inter possa essere un vantaggio non mi piace smentire cronisti ma noi la fortuna ce la siamo costruiti anche qui perché noi abbiamo vinto il campionato di Serie B con la terza squadra che ha vinto più partite esterne quindi penso che questa sia la dimostrazione che nel periodo negativo non abbiamo quasi mai vinto qui in casa quindi se giochiamo bene come abbiamo fatto nel scorso campionato le partite le vinciamo in casa e anche solo il sintetico non conta nulla penso che favorisca la squadra più tecnica in questo caso l'Inter penso il sintetico bisogna avere qualità tecniche il gioco è un po' più veloce come la palla a corre e sono favorite le squadre che hanno qualità tecnica quindi non penso che noi siamo favoriti sull'Inter per questo assolutamente serve un piccolissimo vantaggio poi di fronte alla squadra che abbiamo se mi sezionissi però scusate volevo chiedermi nell'ambito del gioco a tempo diverso è mancato proprio il tiro in cuore non abbiamo quasi mai vorrei prendere che un impiego domani e mezzo di me possa risolvere in parte questa magari con qualche reticazione questo movimento sì ma io penso che al di là che sono cose vere che ne avete io quindi le ribadisco io penso che però soprattutto gli ocali giornalisti non tengono a punto di una cosa che per arrivare là a fare la reticazione nel passato c'è anche la qualità delle altre squadre che trovano di fronte la serie C la serie B ha un valore la serie A ha un altro valore tecnico sono anche gli avversari che non ti impediscono di fare tante cose ecco ci siamo in questa categoria quindi dobbiamo imparare a farle anche noi però un dato di fatto che qualche volta magari non ci riescono per merito qualitativo degli avversari non voglio dire un nome di qualche squadra di serie C ma non è la stessa cosa giocare in questa categoria e giocarla dall'altra parte se non ci viene conto io lo sto dicendo da un fuori dentro questo che le categorie sono differenti però noi militiamo in queste quindi giusto paragonarci a queste però quantosina si sbaglia sono dei valori tecnici importanti e il mestre dei vettori mi potrebbe imparare secondo lei ma noi siamo una squadra che ha fatto due trasferti ha fatto un punto ha fatto tre gol ne abbiamo subito quattro ma abbiamo fatto tre gol in trasferta vai cioè non è proprio che che sia poca roba fare tre gol in trasferta noi quindi che lì dobbiamo migliorare ancora sicuramente sì ma tramite tante cose non è quindi una questione solo chi ha giocato attaccante o tutto non è quella è la manovra che nei secondi tempi che abbiamo fatto è riuscire a essere sempre più incisire a creare qualcosina di più se la manovra è lenta e in serie A tutti si piazzano è difficile fare se non riusciamo a essere come io spero come abbiamo sempre fatto come è lo spirito di questa squadra molto più dinamici molto più intensi che noi non possiamo giocare sotto ritmo noi abbiamo sempre messo in difficoltà le squadre sul ritmo sull'intensità di gioco abbinate a qualche giocata allora possiamo andare evidentemente se siamo lenti non ti non importa perché siamo lenti tra le linee quindi è solo trovare la velocità di esecuzione e un'intensità superiore possiamo metterli che lottati uno indipendentemente a chi gioca in a terra senti visto la Cagliari sull'altra quantina si è stata con l'ultima? assolutamente no però assoluto lei ha parlato di qualità due partite sono un po' troppo poche per dare un'intensità ma noi che qualitativamente eravamo troppo superiori in C1 eravamo quelli che siamo stati in Serie B la stessa qualità in Serie A può avanzare l'obiettivo è la salvezza io penso che il nostro obiettivo faremo del tutto per centrare questo non so se basta noi ci proviamo noi abbiamo il dovere di provarci e di crederci in tutto quello che andiamo a fare queste prime due partite l'ho detto prima sia a Verona con il Chievo che a Cagliari noi siamo sempre stati in partita veniamo da due trasferti abbiamo fatto un punto e penso che anche il Cagliari stesso secondo tempo ha dovuto tenere modulo un po' per arginarci e prendere dei correttivi penso che stiamo facendo queste due prime apparizioni la nostra buona figura e quello ci compete poi se qualcuno pensa che non faremo sempre prestazione al collega vostro mi ha detto mi avete ridurato bene lo scorso anno vi vedevo in Serie B se il parere è questi allora secondo me è il collega vostro che sbaglia però ripeto non siamo qua sappiamo che è un campeonato difficile ma anche siamo consapevoli per lo meno queste due prime partite hanno costato di poterci stare anche noi degnamente anche perché noi giochiamo a calcio nel senso che non cerchiamo di proporci quindi ci vuole più qualità magari altre squadre come Novara che faranno i loro campionato a parte le puntano su cose forse un po' più facili tutti chiudono tranquilli e poi si vede cosa succede noi siamo qualitativamente in grado di fare quello che le vuole in rapporto a quello che abbiamo visto finora dobbiamo se aumentiamo l'intensità ce la fanno fare vediamo se siamo bravi a stare in mezzo lei è un coetaneo di Gasperini siete nati nello stesso anno è stupito dal fatto che siete due allenatori che avete raggiunto i risultati più importanti questa è la vostra carriera non da giovanissimi e a proposito che idea sei fatta di Gasperini ma io ho un'ottima possibilità di Gasperini non adesso se non ricordo male io l'ho incontrato con la treistina che mi allenava a Crotone e l'anno successivo io sono passato al Cagliari poco ma sono passato al Cagliari in passaggio proprio e io ho indicato Gasperini come l'allenatore emergente della serie di video dopo nessuna domanda voi vostra dei giornalisti ho indicato lui che il suo cortone mi piaceva molto e quindi non è una sorpresa per me un ottimo sapere però che lei potreste essere anche arbitri del futuro di Gasperini noi siamo arbitri di noi stessi del nostro futuro non di Gasperini del futuro del nuovo arco lei questa in questo minor dinamismo che in senso che vi parlavamo scorso secondo me è tutto dovuto a una maggiore difficoltà legata agli avversari o c'è anche una scena di freno tutte le due assieme a punto di vista della squadra che ha di fatto tutte le due cose assieme e come riesce a lavorare su questa seconda parte crescendo crescendo di partita in partita perché prendono consapevolezza e lo vediamo nei secondi tempi quando la squadra si scioglie speriamo che sia farlo dall'inizio ancora una cosa lei avverte penso che nessuno di voi sia di lavorare centro avverte questo clima particolare e in che cosa il clima particolare ci può essere domani nel ritorno dell'Api si ha cambiato che sia un clima straordinariamente d'attesa positivo questo sì basta camminare per la strada basta andare a bar basta guardare in alto i balconi e le finestre dei condomini e sono tutti pieni di bandiere azzurre cosa che in un passato recente non ci sono mai state non dimentichiamoci che noi 24 25 mesi fa non tanti anni fa due anni fa abbiamo iniziato il cammino a perlomeno io a a a 250 persone e 1.200 se non ricordo male la prima che abbiamo fatto qui in casa domani la prima in casa ce ne saranno 17 18.000 questa è la grande differenza però è palpabile è molto bella c'è emozione e c'è la maggior parte mi permetto anche di dire di tifosi che mi fermano tantissimi che dicono di quello che stanno regalando perché grazie perché tanti anni che non vedevano il calcio importante adesso li lo permettiamo di vedere cerchiamo noi poi di volerlo mantenere e farlo ancora appena fuori ha la sensazione che per i suoi giocatori la partita di un anno insieme per una squadra non ha in centro di un anno spero di sì spero di sì non lo so se abbiamo questo ma spero di sì perché e questo lo convino a noi perché giochiamo in Serie A perché l'abbiamo già già toccata già fatta questa è perché magari arriva la squadra importante di Rome e quindi su queste partite c'è quel qualcosa in più sempre che che si dà ho citato Fridini e Valgiano citiamo Milano 13.000 persone erano venute quindi c'è un qualcosa di diverso però dopo la fine il calcio va giocato lì dentro 11 contro 11 e quello che c'è le contraddistinguere sono le motivazioni che abbiamo la nostra voglia di fare di stupire di voler far bene questo indipendentemente poi che sia Inter e Chievo noi non possiamo permettercelo degli atteggiamenti diversi è un contesto generale che può creare quella situazione di giocare di sera l'Inter e la prima in Serie A l'Università l'Università